Ronaldo Junior è stato irrispettoso verso suo padre. Durante un incontro tra la squadra giovanile e la prima squadra dell'Al Nasser, Ronaldo Junior ha mostrato il suo imbarazzo davanti al padre. I giocatori delle giovanili si sono avvicinati ai campioni della prima squadra per salutarli, ma Ronaldo Junior ha cercato di evitare il contatto con il padre. Ronaldo, vedendo il figlio esitante, lo ha richiamato per abbracciarlo e salutarlo, ma Ronaldo Junior si è allontanato in fretta, rifiutandosi e lasciando Ronaldo stupito e deluso. Tu cosa ne pensi?